Bini recupera e così va in campo come centrale titolare, Ruotolo passa la difesa a 4, Treghini e Papa sono sulle fasci, Camellucci si prende il ruolo di playmaker a posto dello squalificato buono con anche Vanni che è tra gli 11, un minuto, cross da destra di De Costanzo, Mambrini gira di prima intenzione oltre il montante opposto. Si infortunia presto la testa Vanni così ecco De Angelis in campo, passaggio al 4-2-3-1 finché anche Bucaletti non è costretto ad arrendersi per Martinelli, emergenza piena. Alla mezz'ora rischia Pulci su Regoli che tocca la sfera verso lo specchio avversario, facile la presa di Lazzarini. Ghiotto occasione quindi per lo Spoleto, imbucata per Mascolo con Bettoni che respinge la ribattuta e preda di capanna sulla linea Papa, evita la capitolazione. Punizione nel minuto numero 39 di Fanelli, torre di Pulci sforbiciata di Ciccioli che scheggia il palo alla sinistra dell'estremo valdarnese. Nel recupero a sportellate Mascolo sfugge a Pezzati, poi viene murato sotto misura da Bettoni. Nella ripresa emozione immediata Lischi che d'esterno sinistro dal limite va ad incocciare il palo con Lazzarini già battuto. Il numero 7 poi si trasforma in assist man per De Angelis che a contatto con Aidini non riesce però ad impattare la sfera da pochi passi. È un'altra sangio in questa frazione, Bini da fuori, botta che non trova lo specchio. Si rivedono quindi padroni di casa, traversone teso, intoccato però da destra da parte di Minucci. Un Minucci che poi, migliore dei suoi pochi minuti dopo, si vede respingere lateralmente la gittata dalla lunga distanza da un sempre attento Bettoni. Così il match finisce a reti bianche.